E tu, e noi, e lei, tra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei le mani, nessun pensiero stupendo, ma c'è un noto strisciato, si potrebbe trattare il bisogno d'amore, meglio non dire, tu, e tu, e noi, e lei, e lei, e lei, e lei, e lei, e noi, e lei, tra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei le mani, nessun pensiero, o prima o poi, poteva che venire, sai, se può scivolare, se così si può dire, questione di cuore.